Musica Sul territorio nazionale è sempre più omogenea la diffusione del coronavirus e nel resto del mondo Si toccano numeri che fanno paura con oltre 22 milioni di casi In Francia il numero medio dei nuovi contagi registrati in 7 giorni è ben superiore a 2.000 in Germania I nuovi dati parlano di 1.510 nuovi casi, il dato più preoccupante da oltre 3 mesi In Brasile 1.352 decessi e 47.748 nuovi contagi nelle ultime 24 ore E c'è uno studio dell'Università della Florida, non ancora confermato dalla comunità scientifica Che chiarirebbe che le goccioline e l'aerosol nell'area possono contenere virus vivi e non solo frammenti di materiale genetico Consentendo la trasmissione della malattia con una distanza fino a 4,8 metri Non tutti gli esperti sono concordi sul fatto che l'aerosol disperso possa avere un ruolo nella diffusione del covid Ma gli autori dello studio sarebbero riusciti ad isolare virus vivi da aerosol ad una distanza compresa tra 2 e 5 metri Una distanza dunque nettamente superiore al metro consigliato dagli esperti per ridurre la diffusione Dai 30 ai 50 anni questa la fascia che percentualmente nell'intera Repubblica Italiana è più colpita dal nuovo coronavirus In questo momento un netto cambiamento rispetto ai dati della prima ondata che vedevano le persone anziane Oggi tra quelle in percentuale meno colpite esserne invece colpite in maniera preponderante Così come i livelli delle regioni cosiddette focolai quali erano Lombardia, Emilia Romagna, Veneto e Piemonte Oggi si attestano su livelli delle regioni centro-meridionali Un livellamento quindi della situazione è un invito a mantenere desta l'attenzione Non fanno eccezione Napoli e la Campania Il dottore Nicola Maturo infatti responsabile del pronto soccorso infettivologico dell'ospedale Cotugno Ha fatto il punto sulla situazione non di certo rosea In quanto si è segnalata già una giornata con ricoveri pieni E la partenza del protocollo che prevede lo spostamento di pazienti provenienti da altri ospedali O cosiddetti in transito verso l'ospedale del mare e un altro nosocomio in regione Campania Maturo ha anche spiegato alla TV di Stato che qualora si dovessero segnalare ulteriori aumenti dei contagi Si passerebbe alla fase 2 con il raddoppiamento dei posti per i pazienti Covid su tutto l'assetto regionale Protocolli questi maturati nel corso della prima ondata E che dovrebbero tranquillizzare la popolazione in merito alla risposta data dalle istituzioni Per quanto riguarda invece il decorso della malattia Maturo ha precisato che le polmoniti che si sono mostrate nei mesi invernali e primaverili Continuano a vedersi anche negli attuali pazienti Con la differenza che quando ad ammalarsi sono pazienti giovani La risposta immunitaria è maggiormente immediata Tenere quindi desta l'attenzione e non smettere di seguire le regole Questo l'invito rivolto a tutti Sono 35 nuovi positivi al Covid-19 in Campania Ma a fronte di 3.156 tamponi effettuati Ieri i positivi erano 34 ma con 1.404 tamponi eseguiti Di nuovi positivi il consueto bollettino dell'Asri indica che 12 sono provenienti dall'estero O contatti di precedenti casi di rientro Anche oggi non si regissa alcun decesso Mentre sono 6 le persone guarite Il totale dei positivi della Campania è 5.347 Ovvero meno dello 0,1% della popolazione Rilevati con la realizzazione di 366.453 tamponi Nasa o faringei Il totale delle persone decedute dall'inizio della pandemia Con o per Covid-19 è fermo a 440 unità Sono dunque 4.311 le persone guarite Per quel che concerne il capologo Oggi si registrano a Napoli città 121 persone positive Una crescita esponenziale Se si pensa che nei primi giorni di luglio erano meno di 10 Il Comune di Napoli fa sapere che di queste 23 sono ricoverate in ospedale Una in terapia intensiva e 98 in isolamento a casa Uno scenario che conferma come nell'ambito del territorio regionale Fino a prima dell'apertura delle frontiere e dei viaggi per le vacanze La circolazione del virus era pressoché pari allo zero Basti pensare alla completa assenza di contagi provocati dalla festa per la vittoria della Coppa Italia Che aveva provocato reazioni a tutti i livelli E invece si è rivelata del tutto innocua Oggi i medici continuano a chiedere attenzione alle distanze All'uso della mascherina Divenuto di nuovo obbligatorio anche per strada dopo le 18 E al lavaggio delle mani Imparare a convivere con il virus significa anche questo E chi torna dalle vacanze all'estero è obbligato a farsi il tampone Soltanto nel mese di agosto in Campania Si sono registrati 349 nuovi casi di coronavirus L'RT della nostra regione è 1,87 I contagi sono in aumento come in tutto lo stivale Per la maggior parte sono di importazione Dei 35 casi di ieri 12 erano provenienti dall'estero Ma soprattutto scende l'età media di chi viene colpito dal virus Si parla di 40 anni circa Ma questi contagi si diffondono nell'ambito familiare Mettendo a rischio le persone in età più avanzata Da qui l'appello lanciato dal direttore generale dell'azienda dei Colli di Napoli Maurizio Di Mauro Lo che invita la responsabilità fino ad oggi ha detto in Campania A limitare la diffusione del virus Era stato il distanziamento e l'uso della mascherina E ancora oggi se ci rapportiamo ad altre regioni Ci troviamo in una condizione sotto controllo Ma rischiamo che il virus si possa diffondere Per la non osservanza delle regole Tutti dobbiamo adottare tutte le precauzioni previste Per evitare una diffusione più virulenta Che rischierebbe di diventare pericolosa Il totale è arrivato a 5.347 casi da inizio pandemia Al momento ci sono 49 persone ricoverate con sintomi Due in più in terapia intensiva 51 dunque gli ospedalizzati 545 invece le persone in isolamento domiciliare Il totale degli attualmente positivi è di 596 persone 6 nuovi guariti Che portano il totale a 4.311 Non si registrano nuovi decessi Il numero è fermo a 440 E allarme cani abbandonati tra Napoli e provincia Rispetto agli scorsi anni Nello stesso periodo è più che raddoppiato Nelle ultime settimane Il numero degli animali domestici Lasciati in mezzo a una strada O legati davanti ai canili presenti sul territorio La situazione che riflette l'aggravarsi del fenomeno Su tutto il territorio nazionale Secondo gli esperti È una delle conseguenze dell'epidemia covid Che ha spinto molti proprietari A disfarsi del proprio animale di compagnia In particolare i cani Per paura del contagio Gli abbandoni sono aumentati del 70% Hanno reso noti i gestori dei rifugi per animali Tutte le strutture deputate all'accoglienza Dei randaggi a Napoli e in provincia Sono affollate come non mai Un incremento registrato già prima del lockdown Quando in Italia arrivavano dalla Cina Le prime notizie su quella che da lì a breve Sarebbe diventata la pandemia Dal 20 febbraio all'8 marzo 2020 Erano entrati nei canili quasi 2000 in più Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno Una media di oltre 100 cani al giorno Chi li ha portati dichiarava di non poterli più gestire A causa del virus Finito il lockdown e con l'avvicinarsi Della stagione balneare Il numero di abbandoni è tornato ad essere preoccupante C'è un'intera famiglia che aveva avuto contatti Con il caso emerso a Nocera Inferiore Nei giorni scorsi E due persone rientrate da una vacanza in Grecia Tra i sei nuovi casi positivi registrati nel comune di Nocera Inferiore Dove al Palacoscioni continuano i test Su tutta la popolazione considerata a rischio I quattro componenti della famiglia Sono moglie, figlio, suocera e suocero Che avevano avuto contatti con il caso Emerso nei giorni scorsi Tra i nuovi positivi registrati oggi In provincia di Salerno Ci sono anche tre cittadini di Mercato San Severino Due sono familiari Moglie, figlio di un contatto stretto Del paziente di Mercato San Severino Ricoverato già in ospedale Per altre patologie Da ieri alla conta si è aggiunto anche Un nuovo caso a Battipaglia Si tratta di una persona rientrata Da una vacanza dalla Spagna Sul fronte buone notizie invece Sono risultati tutti negativi 101 tamponi effettuati Da altre tante persone a Castel San Giorgio Si tratta di gruppi che provenivano Da vacanze all'estero Avevano preso parte a un evento Presso la sala ricevimenti La Sorrisa di Sant'Antonio Abate O avevano partecipato al matrimonio Al battesimo a cui aveva preso parte Il fotografo risultato contagiato Finalmente tiriamo un sospiro di sollievo Ha detto il sindaco Paola Lanzara La macchina amministrativa e sanitaria ha funzionato Ora andiamo avanti con serenità Ma senza abbassare la guardia Tant'è che la prima cittadina di Castel San Giorgio Ha obbligato ad utilizzare Su tutto il territorio comunale H24 Le mascherine Analoga decisione È stata adottata da ieri Anche nel comune di Vietri Sul Mare Dal sindaco Giovanni De Simone Che ha emanato un'ordinanza Che impone fino alla fine d'agosto L'obbligo di mascherina H24 Ma per fortuna anche nel comune Alle porte della costiera Sono risultati tutti negativi I primi sei tamponi effettuati Su cittadini residenti a Vietri Sul Mare Che avevano avuto contatti con il fotografo del caso di Sant'Antonio Abbate Mentre i reparti di terapia intensiva degli ospedali E le strutture covid center tornano a riempirsi di soggetti positivi al coronavirus Vanno segnalate fortunatamente alcune buone notizie sul fronte test A Rocca Piemonte e Castel San Giorgio Due cittadini dell'agro Dove negli ultimi giorni Si sono registrati alcuni casi di positività Sono risultati negativi Gli esami effettuati su molte persone Provenienti dall'estero O che avevano avuto contatti Con gente di rientro da vacanze O anche con soggetti Che erano stati ad eventi Al locale La Sorrisa di Sant'Antonio Abbate Dove è stato accertato un focolaio Nei giorni scorsi Circa 50 dei tamponi effettuati A Rocca Piemonte Sono risultati negativi Si tratta soprattutto di giovani Che hanno avuto contatti con un ragazzo tornato da Malta E quelli che avevano partecipato a una festa Proprio a Sant'Antonio Abbate Restano quindi in totale Due i casi di positività A Castel San Giorgio è positivo solo il fotografo Mentre sono negativi I 101 tamponi effettuati Su gruppi di persone di Castel San Giorgio Che provenivano da vacanze all'estero O avevano preso parte A un evento presso la sala ricevimenti Prevedono l'utilizzo della mascherina Anche all'aperto per tutta la giornata A Rocca Piemonte il sindaco Pagano Ha chiesto ai cittadini provenienti da fuori regione Di segnalarsi con apposito modello Alla protezione civile O alla polizia municipale Una disposizione che è in vigore Già dal giugno scorso Mentre per chi torna dall'estero Scatta la quarantena fiduciaria Con l'esigenza di sottoporsi a tampone In provincia di Salerno sarebbero 87 I soggetti positivi al covid attualmente In una settimana sono saliti del 15% Restano 5 i casi positivi a Cava dei Tirreni Con 70 persone in isolamento Come annunciato dal sindaco Servalli Sono 3 le ragazze rientrate a Salerno da Malta Risultate positive A Mercato San Severino Il sindaco Somma ha confermato La positività di un altro cittadino Ricoverato in ospedale E che a causa di patologie pregresse Avrebbe avuto contatti solo con familiari E col personale delle strutture Dove si è recato per le cure Si tratta del terzo positivo Riscontrato a Mercato San Severino In pochi giorni Dopo il caso dei due coniugi Già in isolamento nei giorni scorsi Tre nuovi casi anche ad Angri Quattro adesso in totale Due i casi a Battipaglia Entrambi riguardanti rientri dall'estero Dalla Spagna Non sembrano esserci casi invece a Pagani Tra l'altro il comune è fermo Con i dati rilevati sul territorio Al 26 giugno addirittura Ovviamente si tratta di situazioni Che creano angoscia Difficoltà operative Perché vanno ricostruiti Tutti i contatti tenuti da questi soggetti E si deve procedere con l'isolamento E poi con i controlli del caso In ultima analisi I test sierologici oppure i tamponi Un'attesa ordinata Con distanziamento rispettato E mascherine indossate Tamponi al palacoscioni Di nocele inferiore Per le persone che rientrate dall'estero Si sono autosegnalati all'ASL Come previsto dall'ordinanza Firmata la scorsa settimana Dal presidente della regione Campania Vincenzo De Luca Procedura veloce Poca attesa Con la presenza Della protezione civile comunale E degli addetti Del Dipartimento di Prevenzione Dell'ASL Salerno Una pecca Il passaggio di penna Per scrivere i dati Sui prestampati consegnati Nell'attesa che il presidio Si insediasse Qualche utente Già presente all'esterno Ha anche dovuto raccogliere Gli insulti Di alcuni passanti Vi stavate a casa Quello più ricorrente In questi giorni Anche sui social Circostanza che ha creato Malumore in chi Spiega Siamo stati sia all'estero Ma abbiamo rispettato Le regole In tutto e per tutto C'è chi Pur restando in Italia Ha invece creato Assembramenti Sottolineano Spiegando che Vorrebbero che non fosse fatta Di tutta l'erba un fascio Le regole Sono state Trasgredite Da qualcuno all'estero Come da qualcuno In Italia E c'è chi Le ha rispettate all'estero Come in Italia Ci dicono Alcuni giovani Presenti al Palacoscioni La decisione Di effettuare i tamponi Al palazzetto di Nocera Ha consentito Di velocizzare i tempi Che con l'effettuazione Delle operazioni A domicilio Sarebbero Di certo stati Più lunghi Intanto Da Roccapiemonte Arriva il pugno duro Del sindaco Carmine Pagano Si comunica Si comunica ai cittadini Di Roccapiemonte Si legge in una nota E da tutti i soggetti Che in arrivo O di rientro in città Da paesi esteri O regioni diverse Dalla campagna Saranno sanzionati E perseguiti Per legge Se non dovessero Attenersi Alle disposizioni Di segnalazione Previste Dalle ordinanze Del sindaco Fin dallo scorso Mese di luglio Non ammetteremo Più nessuna Trasgressione Alle regole Di Cepagano Comportamenti Scelerati E incoscienti Non saranno tollerati Tuona ancora Il primo cittadino Carmine Pagano Sono centinaia Le segnalazioni Arrivate all'asola Di Avellino Da parte di chi In questi giorni Sta rientrando Dai paesi esteri L'azienda di via Degli Mbimbo Per velocizzare Le operazioni di screening Su questi soggetti Ha deciso quindi Di istituire Tre punti di prelievo Fissi per l'esecuzione Dei tamponi In naso Far in jail Per la ricerca Del covid-19 Da questa mattina Al via i test Al palazzetto Dello sport del tricolle A Campo Genova Dove i soggetti Vengono sottoposti A tampone Direttamente Nelle proprie automobili Decine e decine Di persone In fila Invece ad Ariano Sempre nel rispetto Delle norme anti-covid Per sottoporsi Al tampone Sono invece iniziate Ieri le operazioni A Sant'Angelo De Lombardi In via Bartolomei Nel piazzale In prossimità Del distretto sanitario E proseguiranno Fino al 25 agosto Per tutti quei cittadini Con residenza O domicilio Nei comuni Gran folla Nel capoluogo A cui far riferimento Un alto numero Di cittadini In pratica Tutti quelli residenti Nei comuni Dei distretti sanitari Di Avellino Monteforte Irpino A Tripalda E Baiano I tamponi Verranno eseguiti Qui fino al 26 agosto Dalle 9 alle 13 Stessi giorni E stessi orari Anche per il palazzetto Arianese A cui saranno indirizzati I cittadini Che fanno riferimento Ai distretti del Tricolle Di Grotta Minarda E di Mirabella e Clano Le operazioni di prelievo Sono riservate A quei cittadini Che avranno già segnalato Il proprio rientro All'Asle E al comune di domicilio Così come stabilito Dall'ordinanza Del Ministero della Salute E' obbligatorio Indossare la mascherina Per accedere ai locali Dove effettuare il test E inoltre queste persone Che si trovano già In regime di isolamento Dal loro rientro in Italia Sono autorizzate A lasciare le proprie case Esclusivamente Per recarsi Nei punti individuati Dall'Asle Sottoporsi a tampone Per il tempo Strettamente necessario E senza alcuna Deviazione dal percorso L'esito del test Verrà comunicato loro Entro 24 ore In caso di negatività Per questi soggetti Cesserà immediatamente L'isolamento domiciliare Per coloro che invece Dovessero risultare positivi Al Covid Scatterà il protocollo E quindi Il prolungamento Della quarantena E il monitoraggio Da parte dell'azienda Sanitaria locale Abbiamo inferto Un duro colpo Alle attività di spaccio Di sostanze stupefacenti Lungo la costa Basso Molisana Parola del comandante Fabio Ficuciello In merito All'operazione Tempio Messa a segno All'alba di ieri E che ha avuto Come tra virgolette Epicentro San Giacomo Degli Schiavoni Nel Tempio dello spaccio Arrestato un 27enne Originario di Termoli Già noto Alle forze dell'ordine Ritenuto il capo Di un sodalizio criminale A cui facevano riferimento Diversi altri giovani Tutti tra i 27 e i 30 anni Dalle risultanze Investigative Proprio San Giacomo Sarebbe la base Dell'attività di spaccio Che si estendeva Anche nelle vicine Termoli e Guionesi Ashish Marihuana Cocaina ed Eroina Le tipologie Di stupefacente spacciato Finora 20 Soggetti individuati Come assuntori Ma riteniamo Che la rete Possa essere più vasta Ha sottolineato Il comandante Della compagnia Dei carabinieri Di Termoli Anche perché Nel corso dell'operazione Sono state eseguite Altre quattro misure Cautelari Con obbligo di dimora A carico Di altre tante persone Tra cui due donne Originarie di fuori regione E denunciate In stato di libertà Altri quattro soggetti Tutti residenti In basso molise In particolare La provenienza Extra regionale Delle donne Destinatarie Del provvedimento Restrittivo Potrebbe far pensare Ad ulteriori piazze Di spaccio L'operazione Ha rimarcato ancora Ficuciello È originata da un'indagine Prolungata Che è andata avanti Per mesi Anche in periodo Di lockdown Nel corso del quale Lo spaccio Non ha subito interruzioni Dal comandante Inoltre Rimarcato il contributo Della cittadinanza Che ha innescato L'attività Investigativa Siamo soddisfatti Perché abbiamo Neutralizzato E abbiamo inferto Più che altro Un colpo Molto importante All'attività Di spaccio Di sostanze Superfacenti Sulla costa Assicurando La giustizia Alcuni soggetti Che in esecuzione Di un medesimo Disegno criminoso E anche in concorso Tra loro Avevano eseguito Avevano messo in campo Questa tipologia Di affare Per cui le attività Di contrasto Sono state rese possibili Grazie soprattutto Al tipo di rapporto Fiduciario Che vi è con il cittadino Le informazioni Principalmente Provenivano Dei cittadini Che avevano notato Alcuni movimenti Sospetti O personaggi Poco conosciuti Nella zona Di San Giacomo Delle Schiavoni E quindi In conclusione Mi piace Sottolineare proprio questo I servizi di prossimità Dall'arma dei carabinieri Sono finalizzati A intercettare A ricevere A raccogliere Delle informazioni Che poi vengono vagliate Per cui Può scaturire Un'attività di indagine Che porta Ecco a successi Come quelle di ieri Quindi Benvengano le informazioni Da parte dell'utenza Da parte dei cittadini Che troveranno sempre Le caserme aperte O comunque Delle pattuglie in giro Che saranno disponibili All'ascolto Per concorrere Al bene di tutti Cioè il bene Della collettività E della sicurezza pubblica E quella penale Da 7 milioni di euro In caso di rescissione Anticipata del contratto A tenere distante Gattuso Dal rinnovo con il Napoli In queste giornate agostane Il tecnico calabrese Che ha scelto Di trascorrere Le sue vacanze A Positano Si sposta spesso Per raggiungere Capri Dove Aurelio De Laurenti Si è stabilito Il suo quartier generale Il patron del Napoli Insieme al DS Giuntoli Sta disegnando la squadra Per la prossima stagione Provando a rispettare Anche le indicazioni Dell'allenatore Secondo Gattuso E punti fermi Intorno ai quali Plasmare il Napoli Del futuro sono 4 Così come 4 Sono di acquisti Chi deve restare E Mertens Fabian Ruzman Olasse E Zienlischi Tornando al contratto Di Gattuso In sella Come allenatore del Napoli Tecnici delle squadre top Della Serie A E quello che guadagna Di meno Ovvero 750 mila ore Netti a stagione Molto lontani Dagli 11 milioni Di Conte all'Inter Ma anche dei 5,5 milioni Di Sari alla Juventus Rinnovando Per 2-3 anni Gattuso dovrebbe Spuntare Un contratto Da 2 milioni Netti a stagione In caso contrario Il contratto Dell'allenatore Sarebbe prorogato Di un altro anno A 1,5 milioni Netti Senza ulteriori variazioni O introduzioni di penali Gattuso punta A completare Il suo staff Di collaboratori Ed è forte Il rapporto Dal suo procuratore Giorgio Mendes Con De Laurentiis Occorre anche dire Che il rinnovo Non era scontato Il Napoli Si era cautelato Avendo introdotto Una clausola Che consentiva al club Di rescindere Il contratto Unilateralmente Entro il 10 giugno Versando una penale Di 700 mila euro Opzione che per fortuna Non è stata esercitata Il futuro Ora è tutto da scrivere Il Napoli Serra ai ranghi In vista del ritiro E in attesa Di ulteriori ufficialità Sul mercato Rinnova sino al 2025 Due calciatori Della linea difensiva E uno della mediana Si tratta di Giovanni Di Lorenzo Mario Rui Ed Elmas Che divengono quindi Tasselli fondamentali Del nuovo corso Che dovrebbe essere A trazione gattusiana 25 milioni Più Iunes Questa sarebbe L'attuale offerta Del front office Di Aurelio De Laurentiis Con Malcui Una e Tutino Che potrebbero Entrare nell'affare Ai saluti Invece Caliduculi Bali Il gigante Franco senegalese Pronto ad abbracciare Manchester Sponda City Decisivo Il rilancio Di 70 milioni Sui 63 Inizialmente Stanziati Per convincere L'entourage Del Napoli Sempre calda Invece La pista Che conduce Allo scambio Tra un Dere Arek Milik Sul piatto Anche 15 milioni Per gli azzurri Da parte Della Roma Più lontano Invece Il terzino Di proprietà Del Real Madrid Reguillon In prestito Quest'anno Al Siviglia L'alternativa Sarebbe quella Di pescare In Polonia Con il giovane Mikal Karbovnik Dell'Egia Varsavia 7 milioni Al club E 5 anni Di contratto Al calciatore Ben trovati Da Nikos Che ho detto Un aggiornamento Con le previsioni Di Trabimeteo Salire in cattedra Nel corso di giovedì L'anticiclone Subtropicale Su tutta l'Europa Centromeridionale Alta pressione Richiamata Dallo sprofondamento Ad ovest In aperto atlantico Di un'ampia Zona di bassa pressione Che poi Da domenica In via raccorrenti Un po' più freschi In quota Al nord Con temporali E man mano Un abbassamento Delle temperature In avvio Dalla prossima settimana Ma intanto Venerdì E sabato Clou del grande caldo Sulla nostra penisola Per l'arrivo Di correnti Dal nord Africa Bollenti Valori che Proprio Al centro sud Sabato Potrebbero sfiorare I 38 A 40 gradi Sulle zane interne Mappa delle precipitazioni Nulla da segnalare Qualche isolato Spot Tempolalesco Sulle alpi Settentrionali Durante il pomeriggio Andiamo in sintesi Alla grafica C'è poco da dire C'è di sereni O poco nuvolosi Le temperature Che sfioreranno I 35 gradi Sulle centrali tirreniche